È un'ordinanza quella del primo cittadino Massimo Seri che impone ai proprietari e detentori a qualsiasi titolo il divieto permanente di mantenere coattivamente animali di qualsiasi specie sugli argini, sui greti e sulle sponde dei corsi d'acqua nonché nelle zone esondabili e in aree adiacenti la linea di costa che siano state soggette ad allagamento anche in modo non continuativo. Il provvedimento è stato adottato su richiesta del prefetto di Pesaro e Urbino dopo che diverse associazioni di protezione degli animali avevano rilevato che in caso di maltempo e dosondazioni i loro volontari e gli addetti preposti sono costretti a veri e propri tour de force per salvare gli animali. Qualcuno si è chiesto che fine faranno a questo punto le anatre, le oche, i cigni e le nutre lungo il canale Albani ma in realtà si tratta di animali liberi e non detenuti come prevede l'ordinanza firmata dal sindaco. Vieta semplicemente la detenzione degli animali legati o rinchiusi in gabbie lungo i fiumi, lungo i torrenti, lungo gli alvei, i greti e in generale nelle zone esondabili, a rischio di esondazione. In altre parole si dispone che gli animali in queste zone siano liberi di muoversi proprio per evitare che in caso di inondazioni anneghino. Infatti nelle ultime settimane con le grandi piogge abbiamo avuto una serie di episodi per cui abbiamo ritrovato lungo la spiaggia caprioli morti, pecore morte. Ecco, questo non deve più avvenire anche perché molto spesso le guardie zoofili o i volontari o i cittadini rischiano la loro incolumità in queste situazioni proprio per salvare gli animali. Quindi questa è un'ordinanza di buonsenso e di umanità che dice una cosa semplice. Nelle zone a rischio di esondazione gli animali non devono essere né incatenati né rinchiusi dentro le gabbie perché altrimenti è come condannarli a morte. Apprezzamento per l'ordinanza arriva anche da parte dell'AMPANA, Associazione Nazionale Protezioni Animali in Natura Ambiente. È una risposta indispensabile per far fronte alle stragi di animali che si verificano ogni qualvolta le emergenze meteo colpiscono il territorio, ha detto il presidente provinciale Paola Paccassoni. Detenere gli animali rinchiusi o legati in una zona a rischio di esondazione, ha proseguito, è per loro una condanna a morte che non può essere accettata e tollerata, potendo anche integrare gli estremi del reato di maltrattamento. Un pensiero questo condiviso anche dalla presidente dell'Associazione Melampollus, Simona Maroccini. Siamo felicissimi perché da tanti 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 anni assistiamo alla detenzione assolutamente illegittima di animali, qualsiasi tipo di animale, non parlo soltanto di cani, di gatti, parlo di tutti gli animali, in condizioni non idonee, sul gretto dei fiumi, proprio vicini alla possibilità in caso di esondazione di morire nel peggior modo possibile, annegati senza possibilità di fuga, semplicemente morire. Le condizioni di vita sono già impensabili e la morte è terribile. Quindi siamo felici, ringraziamo veramente per una volta l'amministrazione perché ha fatto una cosa veramente, ha dato un segno di civiltà.